Tenuta tra rose, Rosso di Montepulciano, Salterio, annata 2018. Il Rosso di Montepulciano è il cosiddetto entry level, è il vino quotidiano, è il vino da bere a pranzo, è il vino da mangiare con un piatto semplice che unisce questo carattere unico del vino nobile, dell'arancia rossa con una presenza di ciliegia fresca, insieme a questa bellissima espressione di chinotto al naso. In bocca è un vino leggero, lo si vede anche dal suo calore, che ha una grande semplicità, ma ha una grande freschezza e bevibilità. Il vino quotidiano, un vino da bere tutti i giorni e servire anche nel periodo estivo abbassando leggermente la temperatura, quelli che oggi vengono definiti Summer Red Wine.